Questa è l'ultima ed è l'attualità. Abbiamo avuto in questi ultimi tempi delle iniziative svolte nelle manifestazioni della Via D'Ande, della Via dell'Arco. Io ho preso al volo la manifestazione in cui sono stati chiamati dei personaggi a fare il nuovo calco della mano, appunto inditolato il calco della mano. Io inna del ton benedì clavì usciur aureliano che del manifestazione a Via D'Ande, lei al promotor, le staccia cura dal bidè a fare il calco della mano, gli ammissat lì sondria e lì s'ambrinchi sfornù. Il prima la sera sovraimpronta all'estas d'onivo e il parco a San Michè, perché la sua mano è sempre staccia pronta e durante l'annovio ha semai tirato a Andrè. L'era la prima volta e lì il pan sta un po' troppo bagnato, però si ronda all'è un livello più amcristoso, la dimostrazione, all'è la pura verità, che non ha ammolita la sporca niente a oggi. Uscò i personaggi e l'era giusta dove russi, le staccia lasciurà caldo, sìndic della nostra città, che da quando che le città e il palazzo russi, finalmente li s'ombrià i s'ombrià a rangestrar. I sta seconda impronta all'netta mia mano, anche se a corrispondenza della linea della vita, quando quel calc era proprio benciua o s'entravist in a leggera ombra di nitta. Il terzo invidato a questa bella manifestazione, le staccia in amissat l'isombria e bravi imprenditori, che ha salvato la squadra di grigia in più di un'occasione, e che ci sono sommati che in tutto il mondo us fa uno. All'è ora di casti e il presidente Gino Vison, che la postrata ora è tornata bene alla nostra città, ma che adesso di lui, la brezza d'un noi in amore, per portare i nostri grigi, magari in serià. Spiccio ma adesso vivendo gli altri personaggi, all'accento gius un po' d'esperienza in heredità, a trasmetirli sentirem del mondo in sui messaggi, dovrei sempre penna di sondria e a te un uro a questa città. Grazie. Giancarlo Prato, con movimenti, l'ho detto presentandolo, con tanta semplicità, ma con tante belle cose che ci ricordano la nostra splendida Alessandria. Giancarlo Prato. Grazie.